Tele2Roti, GoshkaVia. Scusami, la partita non potevano proiettarla qui, scusami. Ma dove? Quella di Torino. Qui siamo a Roma. Ho capito, però venivano in questa piazza, che è una stanza capiente. Qui mettevi un grande schermo. Che partita? Quella della Bacica Lupo? Qua ci potevano fare al massimo. Adesso a Benevento, che fanno la festa, speriamo che non succeda la stessa cosa. Senti, ma ne hai presente le spugne? Io ogni volta che passo da qui, rifletico, ma quanto costano le spugne naturali? Non so. Questa è la scorta. Ma quella è sempre la scorta? Non c'è la scorta? C'era uno che le pescava a 10 minuti. Poteva chiedere sempre... Madonna, non c'è più dove stare. Non c'è più dove stare. Siamo ospiti in casa nostra, guarda, veramente. Guarda, ci sono anche dei cinesi lì, io non lo so. Questo signore come veste? La maglia del Barcellona. Ma riesco a capire dove stiamo. Dove stiamo andando? No, Pasolini, Muccellaccio Cellini, mette un cartello in apertura. Dove va l'umanità? Boo! Succo di un'intervista di Edgar Snow, che era un giornalista americano, al presidente Mao. E noi effettivamente, alla tazza d'oro, volevate prendere il caffè? Ma avete detto vogliamo il caffè? Ce li hai i soldi? Guarda, ce li ho pure io. Vi faremo sapere allora.